il senatore Matteo Salvini anche questa sera per sostenere una battaglia per Roma bella, pulita, efficiente, orgogliosa, moderna, Roma ha tutto basta avere degli amministratori competenti, onesti, capaci e quindi stiamo lavorando come Lega e come centrodestra per portare Enrico Michetti a fare il sindaco e soprattutto per portare una squadra di donne e uomini della Lega a governare questa straordinaria città la ringrazio a te a te